ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video oggi siamo qui dove andremo a parlare di shiba inuma prima di iniziare vi invito come sempre iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere vi invito anche soprattutto a entrare a far parte del gruppo telegram ufficiale di top coin italia dove sto portando metodi di guadagno completamente amatoriali lascio il link sotto in descrizione mi raccomando detto questo ragazzi ritorniamo su shiba inu allora shiba come tutti noi sappiamo il prezzo è sempre questo ma ripeto il mercato non dà segni di vita quindi non bisogna preoccuparci per quanto riguarda il futuro di shiba o meno perché ok siamo sempre a fermi a quota 0,000020 ma ragazzi appena appena uscirà la vera e propria notizia che sto veramente aspettando ragazzi da lì in poi ovviamente è normale che shiba aumenti di prezzo però ovviamente tralasciando e vedendo il mercato shiba così vi voglio più che altro rendervi partecipi di quello che sta succedendo in quanti mi avete chiesto ah ma il portale che fine ha fatto shiba non funziona più infatti se andiamo a controllare c'è ancora ok ma si sta spostando in un altro sito comunque qui vediamo che ovviamente tantissime monete stanno bruciando di shiba inu vediamo qui sempre che è sempre la stessa identica maniera ho appena visto che non ti sei iscritto al canale che cosa aspetti attiva la campanella iscriviti al canale e soprattutto guarda i nostri contenuti perché ne vedrai veramente delle belle mi raccomando per chi fosse interessato poi vi faccio vedere la notizia vera e propria qual è vi vi indico più che altro l'indirizzo il wallet se volete andare a bruciare dei shiba inu sono questi qua questi tre vediamo barn andres one two and three qui vediamo praticamente tutti e tre noi possiamo andare a copiare e inviare i nostri shiba inu che poi questi shiba inu verranno praticamente scomparsi disintegrati ma ovviamente non c'è solamente questo sito infatti ora c'è il problema più che altro che sta aggiornando diciamo anche questo sito che si chiama shiba barn è praticamente proprio legit della versione di shiba inu vediamo qui ancora stanno sistemando tantissime cose qui possiamo andare a scoprire come può funzionare ma comunque ragazzi questo sarà il nuovo portale di shiba inu si può andare a trovare direttamente su shibaswop.com e poi possiamo andare a bruciare tutto quello che noi vogliamo ma quello che vi voglio far vedere io è che in questi giorni diciamo in mia assenza se mi seguite sui social ragazzi capite quello che diciamo che ho passato in questi giorni ma comunque sono ancora qui quindi mi sono diciamo ripreso ma ci sono molte molte diciamo news positive io le ho notate più che altro per quanto riguarda twitter perché ovviamente il profilo twitter ce ne sono veramente tanti inerenti a shiba inu ma ragazzi una cosa mi ha scioccata è incredibile infatti ho potuto portare il video oggi proprio per farvi vedere quante monete sono e praticamente stanno andando a bruciare c'è guardate nelle ultime 24 ore queste qui sono 30 milioni monete ma ragazzi se andiamo qui indietro col tempo arriviamo anche a trilioni ed è questa la cosa incredibile poi ragazzi ovviamente ogni singolo post quello che vedete qui è un barn di monete e ovviamente guardate sto scorrendo da diciamo 30 secondi e ancora sono passati solamente 10 ore per quanto riguarda il barn e le monete e se vogliamo andare a controllare anche noi per quanto riguarda il barn fondamentali e le monete vediamo qui c'è la fiamma e ovviamente una fiamma significa che sono quelli molto ma molto più importanti e ovviamente ragazzi è fattore fondamentalissimo tralasciando sponsor e contro sponsor partnership e contro partnership shiba ora si sta dando da fare più che altro con questo è ovviamente può funzionare sta funzionando ragazzi poi ovviamente se vogliamo andare a vedere più che altro quanto possiamo arrivare attualmente di massimo con shiba inu questo è più che altro un off topic vediamo che una volta era 0,001 e basta ma ora siamo 0,001335 quindi sta aumentando ovviamente la circolazione sta diminuendo ovviamente in questo caso è sta aumentando praticamente i casi per quanto riguarda l'aumento di prezzo di shiba inu quindi ragazzi questo è un fattore da non sottovalutare qua la pagina se andiamo su twitter si chiama chiocciola shibarn con 2b e in questo caso possiamo andare a vedere quante ma quante monete stanno bruciando di shiba inu quindi ovviamente nel nella foto metterò la soglia totale diciamo nell'ultima settimana ragazzi dovete stare tranquilli per quanto riguarda shiba ma perché ovviamente siamo in buone mani con questi barn quindi è un fattore veramente veramente importante che può aiutare soprattutto alla crescita di shiba inu ragazzi da non sottovalutare questo perché tracendo le partnership importanti ragazzi shiba si sta dando da fare e appena ci sarà il praticamente il lancio ufficiale del metaverso di shiba inu e lì in poi ragazzi possiamo veramente veramente stare tranquilli poi ragazzi siete interessati ad andare a guadagnare monete di shiba inu completamente gratuite ovviamente iscrivetevi al canale perché prossimamente porto un metodo di guadagno completamente nuovo per quanto riguarda youtube italia su shiba inu token perché ovviamente ok vediamo news inerenti a shiba inu ma ora vi faccio vedere anche un nuovo modo di come andare a guadagnare questi token incredibili vi invito come sempre iscrivervi anche e soprattutto al gruppo telegram ragazzi mi raccomando perché sto portando metodi di guadagno interessantissimi ora c'è la promozione di trade republic dove andate a guadagnare 50 euro in una maniera completamente easy e facile detto questo ragazzi per questo video è tutto se questo video vi è piaciuto vi invito come sempre iscrivervi al canale attivate la campanella delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere e noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao e a presto